Il codice ICTUS è un codice particolare, assimilabile a un codice rosso, per un percorso vantaggioso e preferenziale per le persone che sono colpite da questa patologia. Il messaggio importante è che queste persone si rendano conto che il loro malore ha delle problematiche particolari per cui è utile chiamare immediatamente il 118 e con questo sistema già al filtro della semplice operativa viene catalogato il codice ICTUS tramite una valutazione dell'operatore di centrale per cui si muove un mezzo di base e in appoggio sempre un mezzo avanzato. Quando viene confermato sul territorio il codice ICTUS da una prima valutazione dei soccorritori del mezzo di base e poi confermato dai soccorritori avanzati, quindi medico, infermiere e studi che arrivano col mezzo avanzato, prosegue il codice ICTUS all'arrivo in pronto soccorso dove avrà una facilitazione con la presenza del neurologo già in pronto soccorso ad aspettare il paziente per una valutazione definitiva e il completamento della diagnostica e la terapia nei tempi.